musica 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 e benvenuti a tutti ragazzi e questo è il mio canale e questo oggi siamo qui su Rocket League ma qui con me in compagnia l'avete letto anche al titolo c'è Martix signori a tutti ragazzi salve 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 l'ultima volta ragazzi non so se già l'ho caricato il video di gta che abbiamo fatto insieme o magari ve lo carico dopo Rocket League non lo so comunque se già l'ho caricato bene se ancora lo caricavo ho fatto un'anteprima di quello che abbiamo registrato insieme ma Martix metterci dentro aspetta questa l'ho presa male anzi questa l'ho presa proprio tavole oh occhio Martix sicuramente qui non dobbiamo perdere eh mi raccomando che se perdiamo bello 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 l'abbiamo fatto ma che cosa ha fatto qui Martix ma che gol ha fatto bellissimo un gran gol direi veramente bello quel gol di Martix nooo l'abbè 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 che scrive sua mamma occhio 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 così davvero davvero dai vai così no Martix così da stavolta portatulia così da stavolta portatulia così da stavolta portatulia eh me ne sono accorto eh vado qui vado solo mamma mia me l'ha levata va bene oh mamma mia buona questa le levate ce l'ho proprio qui bello l'ho fatto bello l'ho fatto bello l'ho fatto l'hai fatto anzi l'ho fatto perchè il gol è mio il gol è mio non so come ma il gol è mio vado vado avanti vai schifiamo questo gran gol guardate che gol signori guardate che gol mamma mia un gol veramente easy peasy lemo squeezy come dice il grande surreal power hai letto oh tu Martix tu invece di scrivere vieni a giocare quanto siamo 2 a 1 2 a 1 vabbè ragazzi che cazzo sai schife lì sopra attenzione concettazione bello come che l'ho trovata questa questa vado proprio portata via non ho detto niente di male no ho detto solo la verità ci devo credere beh Martix non toccare questo pallone perchè se lo tocchi andavo in porta nostra mercetto 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 oh Martix non mi viene addosso vieni al centro bello l'ho fatto vai che l'ho fatto non è vero mai non è vero mai nella vita di tutti i giorni tutti i giorni sappiamo che possiamo incontrare della gente infame tutti i giorni sappiamo che una Lega per 97 si sveglia la mattina e va a segnale su Rocket League guardati 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 è sotto davvero ho preso l'incrocio croce dei pali pieno attento eh attento però oh oh no aspetta mi è arrivata una botta di lag in mensa mi è arrivata una botta di lag che era immensa no vabbè non possiamo dubire gol così ok guardate la macchina di Martix e tutte le fiamme ma siamo grotti noi non ci abbattiamo giusto Martix giusto noi non ci abbattiamo perché proprio nei momenti difficili il campione esce fuori e quindi guardare qui final league no 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 ecco Martix ci dobbiamo un attimino impegnare un attimino di più perché adesso stiamo un pochino casseggiando quindi basta 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 impregniamoci esci te su sta palla cosa che mig no dai dai ste botte della gambe mi arrivano boom occhio Martillala ma Eva ecco va levata 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 questa è mia assolutamente non è vero mai non è vero mai ho licciata non le vai no 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 questa è mia non è vero mai ho licciata oddio attenti attento no Martin attenzione a fare cose che rischiamo proprio di essere puniti nella man... la maniera più cattiva dell'universo è già fatto è fatto mamma mia mamma mia ragazzi ci ho creduto fino alla fine guardate che gol quando nessuno se lo aspettava vai esco arriva vai va in porta protezione Ottimo Questa è arriva al centro Sono sicura Sono sicura Vai L'ho fatto L'hai fatto L'hai fatto Ma che squadra abbiamo Mamma mia Ivana d'accelona E quello sotto D'accelona Ivana d'accelona Sezione Mamma mia bella Attenzione adesso dobbiamo proteggerci Nel senso dobbiamo metterci comunque Attenzione adesso dobbiamo proteggere L'ho già lavati L'ho arrivato sotto Mamma mia signori Poesia in movimento Poesia in movimento A movimento sono venuti Sono venuti I ragazzi signori Come cresci Di un video C'è un po' fin da qua Spero vi si è piaciuto Non mi è saperti I bambini su Commentare Condividete Iscrivetevi al canale Passate il link Sotto in descrizione Vagio Facebook Stai Gaming Dove vi lascio il canale di Martix Mi raccomando Passateci Ed iscrivetevi al canale Se siete No spiaggianti I bambini su Non ci vediamo con la prossima Ringrazio Martix Di essere stato qui In mia compagnia Grazie a te Bella a tutti Bella a tutti E alla prossima Bella